E allora, eccoci qui, pronti a chiederci che cosa ci ha insegnato il 5G e quali sono gli errori o le cose non proprio correttissime che sono state fatte e che dovremmo evitare il più possibile di replicare con il 6G. Sottolineando e ricordandovi fin da subito che il 5G è arrivato per la prima volta nel mondo nel 2018, quindi sei anni fa, ed è arrivato per la prima volta in Italia nel 2019. Quindi stiamo parlando comunque di una tecnologia che gira da diverso tempo, già da 5 anni in Italia e già da 6 in giro per il mondo. Quindi non stiamo parlando di una tecnologia arrivata ieri e quindi direi che possiamo iniziare ad introdurre ciò che ha ispirato questa diretta, ossia l'articolo di, eccoci qua, RCL Wireless News che per l'appunto si intitola Quattro lezioni apprese dal 4G, di cui dovrebbe far tesoro il 6G. Partirei dal primo punto. Il primo punto e la prima lezione è quella di evitare la frammentazione architettonica. Che cosa ha detto il vicepresidente della strategia tecnologica e dell'architettura di US Cellular? C'erano una pletora di opzioni architettoniche che abbiamo esaminato con il 5G, direi più architetturali più che architettoniche. Il rischio è che frammenteremo il mercato e rallenteremo l'adozione di nuove tecnologie. Per il 6G quindi potrebbe essere saggio concentrarsi solo su alcune opzioni di architettura, con un set limitato di opzioni di connettività chiave. E qui qualcuno di voi potrebbe dire, ma in che senso? Cioè ci stai dicendo che oltre al non stand alone e allo stand alone esistevano altre, o meglio esistono, altre architetture del 5G? Ebbene sì, ebbene sì. A livello di standard i 5G, diciamola così, sono più di due. Sono più di due perché, come potete vedere da questa immagine, queste sono tutte le opzioni architetturali del 5G. Eccole qua, tutte le opzioni, che ok, si dividono tra non stand alone e stand alone, ma in ognuna di queste poi ci sono diverse opzioni di collegamento tra il dispositivo, l'antenna 5G, l'antenna 4G e la rete core 4G o 5G. Le opzioni su cui poi si è atterrati sono l'opzione 2 per lo stand alone e l'opzione 3 per il non stand alone. L'idea e la proposta fatta, diciamo, in vista del 6G è evitiamo di fare tutte queste possibili architetture, ok? Ma facciamone meno, facciamo quelle che davvero utilizziamo. Quindi, se, diciamo, tornassimo indietro, l'idea è, al posto di farne 8, ne facciamo 2. Solo l'opzione 2 per lo stand alone e solo l'opzione 3 per il non stand alone. E qui, tra l'altro, si apre, secondo me, un altro punto di riflessione. Ossia, ma è stata vincente l'idea di lanciare una versione non stand alone del 5G, quindi la possibilità di lanciare e attivare antenne 5G facendo affidamento solo sulla rete Core 4G, quindi utilizzando questo tipo di architettura? Questa sarebbe una domanda, secondo me, interessante da fare. Chissà che questa volontà di permettere un lancio anticipato, per certi versi, del 5G, rispetto alla sua versione target, che è sicuramente questa, ha sì permesso, da una parte, di lanciarlo prima il 5G e quindi farlo arrivare già nel 2018, ma poi non è che ha bruciato un po' quella che era l'aspettativa rispetto a questa tecnologia e quindi chissà se con il 6G vedremo sia l'SA che il non stand alone, oppure se vedremo direttamente lo stand alone e basta quando sarà pronta. Al secondo posto, come motivazione, mette che la tecnologia dovrebbe essere, cioè il 6G dovrebbe essere rispetto al 5G, economica e semplice. Sempre Saxena ha anche sottolineato che mentre il 5G stand alone si è concentrato sulle tecnologie cloud native per consentire di arrivare sul mercato più velocemente, più economico, operativamente più semplice, l'ecosistema sta ancora maturando e stabilizzandosi e rimane una mancanza di casi duri convincenti per le implementazioni 5G stand alone. Allora, anche questo è un punto di vista secondo me interessante, perché in effetti la cloudificazione delle reti mobili che doveva avvenire, direi a questo punto, che avverrà con il 5G, avrebbe dovuto portare la flessibilità che il cloud promette, che ha già portato nel mondo IT. Come è facile portare un server aziendale in cloud? Sarebbe stato facile riconfigurare un apparato 5G, riconfigurare una parte di rete, rispondere a una particolare esigenza, insomma, fare tutte queste cose a riguardo del 5G, anche magari installare una rete, implementare una rete 5G privata, quindi al posto di installare un sistema Wi-Fi all'interno di un'azienda, vado a installare una rete 5G privata, ok, all'interno dell'azienda. Tutto questo sarebbe dovuto essere più semplice con questa architettura cloud native. Il problema però quale è stato, come dice il vicepresidente delle architetture di US Cellular, il fatto che l'ecosistema si stesse ancora stabilizzando e si stesse ancora maturando questo tipo di consapevolezza e che quindi questa flessibilità del 5G non ha poi di fatto un riscontro reale nel mercato e nell'applicazione. E quindi, punto 3, signori, è anche fondamentale pensare oltre la tecnologia. Uno dei grandi errori nel 5G è stato che l'industria si è concentrata troppo sull'aspetto della mobilità e non abbastanza del mobile, in realtà, più che della mobilità, e non abbastanza su ciò che funziona su questa tecnologia in termini di applicazioni che abilita. Abbiamo trascorso molto tempo, ecco, quest'ultima fase è molto bella, Abbiamo trascorso molto tempo in autostrada, non abbiamo passato molto tempo sui servizi che funzionano sopra di essa. Questa credo sia la frase che racchiude un po', quest'ultima frase qui, tutto questo terzo punto. Quindi, aver lavorato molto sull'autostrada, quindi nella realizzazione delle reti, di reti in particolare semplicemente più veloci, perché poi il 5G non stand alone di fatto è questo, ma soprattutto non aver pensato, come detto, alla parte servizi. E questo è un tema, questo è il tema, probabilmente. E qui ci possiamo legare al discorso che avevamo fatto un po' in passato, che sembra essere un po' una tendenza ormai anche storica delle connettività mobili, ossia il fatto che la rivoluzione dei servizi arriva ogni due generazioni, non ogni generazione, ma ogni due. Quindi l'ultima rivoluzione dal punto di vista dei servizi è arrivata con il 4G, che ha di fatto abilitato tutto il mondo delle app su smartphone. La prossima evoluzione dei servizi è attesa con il 6G. Forte anche del fatto che il 6G non solo porterà il tema del cloud già introdotto dal 5G, ma introdurrà anche il tema dell'intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza artificiale che entrerà in maniera prepotente all'interno delle reti mobili. E quindi arriviamo poi all'ultimo punto, il quarto e ultimo punto del nostro articolo, che riguardava un po' il tema marketing. Qualcuno di voi aveva parlato di marketing in precedenza, e quindi eccoci qui. Non promettere troppo. Tutti i relatori della sessione, quindi tutti coloro che hanno partecipato al 6G Forum, hanno messo in guardia contro le promesse eccessive quando si tratta di 6G. Ognuno commentando che l'hype intorno al 5G non ha fatto bene a nessuno. In effetti c'è una discrepanza tra l'ampia ambizione che avevamo per il 5G e la realtà di oggi. La monetizzazione del 5G, e immagino che questo vale per quasi tutti i giocatori lungo la catena del valore, è dietro le aspettative originali. Mi sembra assolutamente veritiere che ricalchi senza ombra di dubbio la realtà. Io credo che un altro passaggio importante di tutto quello che abbiamo letto è questo. Stavamo dicendo che la tecnologia può fare questo e quello, il che era vero. Cioè, attenzione, ok il tema di marketing è tutto, ma non è che ciò di cui avevamo parlato rispetto alle potenzialità del 5G non sia vero. Davvero il 5G è in grado di fornire quel tipo di prestazione, quel tipo di futuro, diciamo, in un certo senso. Ma è vero, sicuro d'altro canto è vero, che ciò che poi è stato venduto fino ad oggi, come se avesse quelle potenzialità, in realtà ancora non le ha. Che probabilmente ha portato il 5G a schiantarsi contro il ciclo dell'hype, cioè neanche per correre il ciclo dell'hype, proprio schiantarsi di faccia col naso contro il ciclo dell'hype e farsi ritornare addosso, diciamo, tutta una delusione generalizzata. E quindi ora è difficile, è difficile riprendere, diciamo, ridare dignità per certi versi al marchio 5G, non è assolutamente facile. Si sta cercando di farlo usando magari dei nomi differenti, quindi si parla, ricorderete per esempio la mossa di Team col 5G Ultra, si parla già, si sta già iniziando a parlare di 5.5G, per provare un attimo a dire, guarda che non sono più quel 5G, sono il 5.5G. Insomma, aspettiamoci operazioni di questo tipo per cercare di smarcarsi un po' dal semplice termine 5G, che appunto, ce lo siamo per certi versi un po' giocato. Ok? Questo è un po' il messaggio che esce da questo quarto e ultimo punto. Arrivo in chat a leggere i vostri ultimi commenti, quindi vediamo un po' per cercare di smarcarsi un po' Grazie a tutti.